Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Voglio ringraziare in primis l'utente Alberto Russo che mi ha fatto una domanda precisa e mi ha fatto venire in mente questo video che ora vado a registrare, cioè come attacco i miei due microfoni da vlog, il Rode VideoMicro e il Sennheiser MKI400 all'iPhone. Quindi in questo video vi spiegherò il kit che normalmente utilizzo per vloggare quando sono in vacanza. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. In realtà non vado a spiegare come collegare la parte audio del microfono all'iPhone, ma vado a spiegare come legare insieme queste due cose. Quindi andremo a vedere nel dettaglio il kit da vlogging. Che cosa prevede? Innanzitutto ho il Gorillapod. Questo è un must. Vi lascio il link di tutto questo kit in descrizione. Il Gorillapod perché è un must? Perché consente innanzitutto di tenerlo nella posizione classica da vlogging. In questo modo si tiene il Gorillapod davanti a sé, ci si riprende e parlando viene registrato l'audio. Poi visto che le tre gambe del Gorillapod sono snodabili, questo può essere bloccato in qualsiasi posizione. Per esempio ha un supporto, ha un palo e ci consente di avere gli orientamenti che più ci servono. Salendo si arriva alla testa rotante. Questa è una componente fondamentale perché ovviamente va posizionata sul Gorillapod e avvitata e consente di fare diverse cose. Qui con questo pomellone si svita la piastra che viene fissata a questo supporto e dopo ve lo faccio vedere. Una volta fissato il supporto si riposiziona la piastra sulla testa e si stringe. Questa levetta invece consente di orientare la testa in qualsiasi posizione, quindi dalla posizione dritta del Gorillapod noi siamo in grado di orientare lo smartphone in qualunque posizione vogliamo. Se vogliamo seguire da una posizione fissa con il Gorillapod una scena, dobbiamo utilizzare questo pomellino, lo si svita e poi molto delicatamente si fa ruotare la testa in questo modo. E quindi si va a riprendere magari una sequenza video rimanendo fermi nella solita posizione. E poi arriva il pezzo fondamentale che consente di tenere lo smartphone e di attaccare il microfono. Questo è l'Ulanzi ST05 ed è veramente fenomenale. Va avvitato con la filettatura della piastra della testa rotante e poi bloccato nella maniera classica. Dopodiché prendete lo smartphone ed è questa la figata di questo Ulanzi. Basta fare questo movimento veloce a scatto e il telefono è immediatamente posizionato. Fatto questo si può procedere all'inserimento del microfono. Vi faccio vedere che l'Ulanzi ha in questa posizione, ora si vede abbastanza, la slitta per consentire l'inserimento del microfono. E qui c'è la risposta all'utente che me lo aveva chiesto. Ovviamente il Rode ha la rotellina e lo possiamo andare a stringere. Da qui a qui ve l'avevo già spiegato perché è il collegamento audio, ora non ve lo sto a rispiegare. Allora, qui c'è da spiegare una cosa. A seconda dell'apertura che diamo allo zoom, ve lo faccio vedere. Apro la telecamera, ecco, in questo modo. Se io scendo sotto, nel caso dell'iPhone, a 0.5x, scusate ma non riesco a vedere. Ecco, nell'angolo in alto dove sto indicando, si vede il ciuffetto del gatto morto. Quindi, se vogliamo tenere questo tipo di soluzione, non dobbiamo scendere sotto l'1x. La stessa cosa succede anche con questo tipo di microfono, che pur essendo più allungato, fa vedere la parte, diciamo, sporgente del gatto morto nello schermo. Quindi noi andremo a registrare anche questa parte. Quindi, o ci teniamo a un'apertura 1x, oppure dobbiamo adottare un'ulteriore soluzione che alzi il livello del microfono. E ve la faccio vedere. Si deve adottare un'ulteriore testa, come vedete, ben più alta, che ha la slitta Hotshow da poter inserire qua. E sulla filettatura, da un quarto di pollice, io ho applicato un'ulteriore slitta per consentire l'inserimento del microfono. Quindi, prendiamo e lo fissiamo in questa maniera. Con il pomellone andremo a girare in questo modo. Ve lo giro, così almeno vedete bene. E andiamo a stringere. Fatto questo, possiamo prendere anche il Sennheiser. Lo inseriremo, così. Vedete che, in questo caso, l'altezza tra il microfono e l'obiettivo dell'iPhone è ben più alta. Così andiamo a evitare che il gatto morto entri nell'area visiva di registrazione. Guardate, anche se apro alla massima distanza, il gatto morto non si vede in nessuna maniera. La particolarità dell'ulanzi è che, tramite questa parte snodata, infatti qui c'è il punto di snodo, consente di avere un'escursione di ben 90 gradi, utilizzabile a seconda delle necessità di ripresa. Infine, se non vogliamo utilizzare un microfono direzionale come il Rode o il Sennheiser MKE 400, possiamo utilizzare il famoso Rode Lavalier, che ci consente di poter spostare il supporto da vlogger in qualsiasi posizione e andare a parlare registrando la propria voce da qualsiasi angolatura. Bene ragazzi, io avrei anche terminato. Se volete replicare questo tipo di soluzione iPhone supporto Gorillapod, vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto e soprattutto vi è stato utile, condividetelo su tutti i social, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto attivate la campanellina delle notifiche, perché in questo modo non vi perderete più nessun mio video. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!